Radio CIN Carmen Principato e l'intero Executive Board sono lieti di presentare Soccer City, quando il calcio è emozione, rabbia, sfida, competizione, tifo, campanilismo, un incontro settimanale dove golle e interviste, dibattiti, analisi e commenti, botte e risposte diventano il nostro punto d'incontro Una cordiale buonasera a tutti, dopo una settimana di pausa ritorno a Soccer City, consueto appuntamento quindi del lunedì in concomitanza anche con il ritorno del nostro campionato e dopo la grande festa, il gran galà di Soccer City con Totò Schillaci in archivio Buonasera Patrizio, buonasera Maurizio Buonasera Il nostro team si ricompatta per una giornata calcistica particolare Ma prima partiamo con le notizie dell'ultima ora, per certi versi, che riguardano proprio il nostro grande campione, Giovinco, è vero? Eh sì, Giovinco, miglior deputante dell'anno della MLS, arrivato, ricordiamo, a Toronto a gennaio, ha conquistato il premio con 208 voti su 300 La formica atomica ha segnato 22 gol come Kei Camarra, ma ha vinto a Scarpadoro grazie ai 16 assist Giovinco ha preceduto l'attaccante del Montreal Drogba e Mike Grella, lo ricorderete, al Palma di New York Red Bulls Perfetto, oggi non si è giocato in Serie A tutte le partite durante il weekend, ma si è giocato in Serie B, è vero? Si è giocato in Serie B, il Cagliari ha battuto l'Ascoli 3-0 al Santeria Giannetti e doppietta di Joao Pedro per la squadra di Rastelli che sale a quota, 32 punti, decima vittoria 8 vittorie su 8 in casa, al Santeria, davvero imbattibile in casa la squadra Sarta Il nostro Crotone al secondo posto Crotone e Bari a 28 punti Ecco, il Crotone soprattutto sono le squadre sorpresa In Serie A invece si è cominciato con il derby d'Italia, Juventus-Milan Poi un Bologna-Roma sotto un'acquazzone, c'è stato il derby della Toscana e la Fiorentina Mi dispiace per voi, ha regalato secondo me due punti che erano importantissimi Poteva essere al primo posto questa sera E' vero? Invece questa sera al primo posto è Mancini Maurizio, il commento Allora, molto sintetico, allora in questa tredicesima giornata cos'è accaduto? L'Inter batte nel posticipo il Frosinone per 4-0 E si invola più due in testa alla classifica I Neurazzurri, dalla difesa granitica, hanno scardinato facilmente, devo dire, la retroguardia frusinate E si apprestano a far visita al lanciato Napoli nella prossima giornata Proprio i partonopè ieri hanno vinto con facilità, devo dire, a Verona Contro Lella, se continuano nel loro momento d'oro La sorpresa della giornata, ovvero le sorprese, sono stati ovviamente i pareggi di Roma e Fiorentina per 2-2 I giallorossi 2-2 a Bologna sabato Mentre i viola hanno pareggiato in casa, come diceva prima Paolo 2-2 contro l'Empoli nel derby toscano Invece sabato la Juventus aveva superato il Milan per 1-0 Scavalcandolo in classifica e rilanciandosi così in una posizione più decente Diciamo così per la compagine bianconera Il Sassuolo perde a Genova e perde anche il bomber Berardi e Spurzo In coda, diciamo così, l'Udinese batte 1-0 la Sampdoria Per Montella subito un KO sulla ponchina blu cerchiata Arbitri Paolo Deludenti sotto accusa i due direttori di gara di Bologna-Roma e Fiorentina-Empoli Fiorentina-Empoli per forza perché la Fiorentina non ha vinto Una battuta, a proposito di squalificati abbiamo qualcosa Sì, destro squalificato un turno, ha preso l'ammunizione per quella insomma Isultanza smudata, no? E quindi ha preso questa ammunizione un turno Poi Gentiletti della Lazio un altro turno Zucanovic della Sampdoria Per quanto riguarda Domenico Berardi ancora non è uscita la squalifica Ma certo che lui è un abbonato alle squalifiche Tre espulsioni dirette e 27 ammunizioni senza attuno gara Quindi vedremo un po' che cosa succederà probabilmente il giudice sportivo domani Deciderà, forse avrà chiesto un supplemento di referto arbitragico Per le immagini, sì Ecco, andiamo in pubblicità Poi fra poco una grande, graditissima sorpresa Soccer City, a fra poco Activi Green Ross per i migliori pneumatici invernali e non solo Di Ralph Chiodo Oltre 70 centri in Ontario al vostro servizio Bill Chrysler Where Nobody Beats a Deal from Peel Al 212 Lakeshore West Il concessionario che offre migliori modelli della Fiat 500 al miglior prezzo Milan Winery si trova al 6811 di Stills Avenue West In crocio con la 27 Veniteci a trovare e troverete tutto ciò che può interessare ad un amante del vino Mosti californiani ed italiani Uva senza raspo dall'Italia Analisi e prodotti per la cura del vino E per chi ha una certa età Vino già pronto in bag in the box da 4 fino a 20 litri Garantiamo il prodotto ed anche il servizio 416-740-2005 Questa settimana la famiglia Cataldi vi offre Olio extravergine d'oliva Emma 4,99 Conigli interi da lontario 3,99 la libra Bistecche T-bone 7,99 la libra Bistecche di maiale 2,99 la libra Cachi 12,99 la libra Castagne jumbo 2,99 la libra Fichi d'India 12,99 la cassetta Pecorino romano importato 7,49 la libra Cataldi Fresh Market Al 140 Woodbridge Avenue a Market Lane La tradizione continua E noi continuiamo invece con Soccer City Primo degli ospiti d'onore questa sera Roberto Iarushi Buonasera Robert Buonasera Paolo Innanzitutto permettimi di dirti ufficialmente Di fronte a tutti grazie Per la tua preziosissima presenza Domenica scorsa Sì domenica scorsa Il 15 Il 15 Per il Gran Gala di Soccer City Grazie anche per aver partecipato Come actioner Come si dice in italiano Patrizio Uno banditore 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 per la nostra asta Hai regalato tra l'altro Questa bellissima maglietta Che indossavi quando giocavi con i New York Cosmos Che è un cimeglio storico incredibile Grazie No prego Paolo È stato un evento molto interessante Bello Riportare la storia del calcio locale Da quando ero giovane io E mi ha fatto piacere Che sia stato L'architetto di questa idea È un buon'idea Speriamo che possiamo continuarlo Ecco tra l'altro Il tuo intervento subito dopo la premiazione È stato particolarmente incisivo E credo apprezzato Dalle tante persone che erano presenti in sala Quasi 500 Quando hai ribadito di fronte a personaggi Come Toto Schillaci D'Amico Il manager di Giovinco Il papà di Giovinco Quanto sia importante per il calcio locale Ti riferivi anche ai Toronto FC Avere elementi giocatori canadesi E non essere continuamente Perenamente figli degli americani Ma è una cosa assurda Perché noi a Toronto Dobbiamo essere subito Da un'invasione Di persone Che sono venute qui A pretendere Che conoscono il calcio In meglio di noi Non solo giocatori Ma anche amministratore Alleratori E dirigenti Comunque Tu puoi immaginare Che una squadra come a Toronto Che oggi è sotto L'occhio di Presidente americano General manager americano Alleratore americano Assistant coach Multiplicato da 4 Americano 17 giocatori in rosa Americani Ma stiamo scherzando qui Siamo una succursale A stelle e strisce A stelle e strisce Roberto Un attimo Hai visto So che al tuo club Al club azzurri Avete visto Juventus-Milan insieme Un commento A questa giornata del campionato La partita Non era Non era il massimo Ah Lo so Ero un po' deluso Per il Milan Perché pensavo che Milano Aveva Demostrato Un po' più energia Un po' più Voglia di Di fare Di lanciare Di rischiare Invece è stato abbastanza Non so Abbastanza chiuso Con paura Con obiettivo Di avere un risultato Minore E questo Non mi è piaciuto Specialmente perché La Juventus Non sta Al massimo Nemmeno Nemmeno lei Quindi Un'opportunità Un'attitudine Un'attitudine Di vincere Con Napoli Che penso che Che oggi è anche più forte Della Roma Quindi Sono d'accordo Assolutamente Allora resta lì Perché fra poco ci sarà Una sorpresa Doppia per te Perché tu sei stato Il difensore In assoluto Secondo il mio giudizio Più forte Più arcinio Più duro Più tosto Non soltanto qui in Canada Ma probabilmente Di tutto il continente Nordamericano E fra poco parleremo No no E fra poco parleremo Con uno che era come te Il tuo collega Arcinio In Italia Ha vinto un po' tutto Con Napoli Juventus Ma prima ascoltiamo Le parole proprio Dell'allenatore Dell'Inter Mancini Intanto C'era stasera Finita 4-0 Ma fino all'ottantacinquesimo Era 2-0 E la partita Non è stata così semplice Come poi Può sembrare Il risultato finale Perché il Frosinone Ha fatto un'ottima partita È stato sul campo bene Noi abbiamo avuto occasioni Chiaramente Abbiamo sbagliato Però è stata una partita Fino Un po' Insomma Attesa Fino agli ultimi dieci minuti Poi A noi ci va bene Anche vincere 1-0 Sappiamo che Ci sono squadre Che sono molto più attrezzate Rispetto a noi Per vincere il campionato E tra questi c'è C'è Napoli Adesso mancano otto giorni Vedremo che partita Potremo fare là Sicuramente non sarà Una partita semplice Però Insomma Siamo lì Siamo felici di starci Però il campionato È ancora molto lungo E ma gli scudetti Non si vincono Conto le grandi Purtroppo E questo Nel senso che Napoli sarà sicuramente Una tappa importante Perché credo Che sia insieme alla Roma La squadra Che può vincere il campionato Perché sono le due migliori Secondo me Poi Fiorentina E Juve Poi noi Però Insomma Una partita può accadere di tutto E credo che per dire questo Bisogna aspettare un po' di più Insomma Oggi è troppo presto Sì sì E così Avete sentito Mancini E domenica Roberto C'è Proprio Napoli-Inter Sarà una Una partita Che potrebbe Non ridimensionare Ma questo Questo Inter Che al di là del 4-0 Di ieri Con il Frosinone È un Inter Che comunque Tutte le vittorie Sono arrivate O all'ultimo momento Su un dubbio calcio di rigore Cioè Mancini veramente Ottiene il massimo Con il minimo sforzo Se posso usare Questa espressione Cosa ne pensi? Beh La cosa più importante Per una squadra Che va per il Il campionato È una difesa Una difesa buona E che è questo Che ha In l'Inter Mi piace come gioca Ha Un centrocampo Che combatte E ha Dei caratteri Molto forti Che vogliono Vogliono vincere Questo è già Una Cioè Una base Per una squadra Che va per il campionato E questo Forse che il Napoli Ancora Forse non ha creato Quindi Su questo aspetto Penso che A questo momento È Inter È un po' La favorita La favorita Allora Ti ho presentato Prima Come il difensore Più arcinio Più tosto Più cattivo Sicuramente il migliore Non soltanto in Canada Ma probabilmente A livello di Nord America È giocato con Pelé Con Beckenbauer Con Chinaglia Chi più ne ha E più ne metta Con la nazionale canadese Adesso hai un nuovo ruolo Che credo che stai svolgendo Molto bene Sarai il selezionatore Delle vecchie glorie canadesi A marzo Per questo grande Importante appuntamento Qui a Toronto E noi presentiamo Questa sera E lo ringraziamo subito Con tutto il cuore Quello che secondo me È stato veramente Il più arcinio Il più forte Il più tosto Difensore Degli ultimi anni In Italia Dico bene Patrizio Presentiamolo Ciro Ferrara Uno delle leggende Della serie A Tra gli immortali Ricordiamo 500 presenze In serie A 247 con il Napoli 253 con la Juventus Con 27 gol Poi 49 presenze Con la nazionale Esordi in serie A Il 5 maggio A San Paolo Del 1985 Proprio contro la Juventus Insomma Nel destino Poi nell'87 L'esordio con l'Argentina A Zurich Con un amichevole Per lui tantissime vittorie 8 campionati Come Furino E Ferrara Un record No? Cioè come Ha detto Ferrari Ferrari Sì Ecco perché sono caduto in errore Poi ha tatuato Sull'avambraccia Addirittura Questi 8 scudetti Poi ha vinto Tutto Due Coppe Italia Cinque Supercoppe italiane Una Coppa UEFA Una Champions League Una Supercoppa UEFA Una Coppa Intercontinentale E per non farsi mancare niente Anche una Coppa Interton Ma prima di sentire la sua voce Fatemi leggere Un pezzo scritto Da quel bravo giornalista Che è Paolo Forcolin Che secondo me è eccezionale Ha il volto scavato Di un pulcinella Sempre in bilico Tra il Lazio e il Pianto Faccia napoletana Come Eduardo Come Troisi Il suo nome Ciro È Napoli Ciro e basta Buonasera Ferrara Grazie per essere con noi stasera Grazie Grazie a voi E grazie per la Bellissima presentazione Insomma Avete parlato di tante Tante vittorie Tanti successi Ma vi assicuro Che ci sono state Anche tante sconfitte Come nella vita Tra l'altro Le devo dire Che il nostro operatore È un napoletano Verace Alessandro Che ci sta ascoltando E mi ha detto Io devo salutare Ciro Ferrara Devo essere il primo A parlare con lui Vai 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 Ci siamo salutati Complimenti Complimenti Perché ci ha fatto sognare Negli anni Di Maradona Grazie a lui Con la sua difesa di ferro Abbiamo sognato E niente Che ne pensi Del Napoli Che ne pensi Che ce la facciamo Quest'anno Ma il Napoli È sicuramente Una delle candidate A questo tipo Che ne pensi Che ne pensi A dire inspiration Che vocale Che newi Che è freddo Che вами Che 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 rideга Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.